Ciao Fabrizio, bentornato. Sono passati parecchi anni, ti chiedo chiaramente le tue emozioni, cosa significa per te tornare a Brescia e soprattutto se ci racconti quanto è cambiato il Fabrizio Uomo, il Fabrizio Calciatore rispetto a quello che muovebbe i suoi primi passi nel calcio professionistico più di dieci anni fa. Ma è un'emozione grande, lo dicevo prima. Quando sono andato via ero il più piccolo. Poi quando ho letto che erano passati i dodici anni pensavo si fossero sbagliati e invece è vero. Adesso non sono più il più piccolo, anzi sono uno dei più grandi ed è un'emozione particolare. Sono cambiato perché sicuramente in questi anni ho acquisito esperienza anche a livello di vita. Adesso ho due figli quindi è un'altra prospettiva di vita per me. però ecco la passione è sempre quella e il mio modo di essere non penso sia cambiato. Hai perso un po' l'azienda? Ce l'ho un po' inquinato perché tra Avellino, Terni, Lanciano è un po' sì. Infatti anche i miei figli, la mia bimba parlavate un po' Ternano allora e adesso vediamo di fargli riprendere le abitudini giuste. Però con cistana ma gravi così qualche parola in fogliata, qualche parola in dialetto ci scazzeranno? Sì sì no, quello me lo ricordo ancora, quello me lo ricordo. Ti chiedo a Fabrizio se pensavi che ti hai mai pensato che un giorno saresti tornato? Se era un pensiero che avevo di fondo e se la consideri un po' una specie di chiusura del cerchio? No, non l'avevo mai pensato di tornare perché mi sembrava un sogno anche troppo grande e si doveva rincastrare tante cose. Poi quando quest'anno è successo che c'è stata questa opportunità di mercato e in questo scambio il Brescia ha indicato a me come magari il calciatore che gli poteva interessare della Ternana e lui ha iniziato un po' a crederci. Però non era per me un obiettivo, diciamo un obiettivo era un qualcosa che sarebbe stato bello però non ci ho mai messo il pensiero e dopo penso che nella vita ci sia il destino e ci sono incastrate tante cose per cui potessi tornare e quindi era una sfida che dovevo prendere al di là di come andrà ma non potevo non raccoglierla. Sei tornato da pochi giorni e volevo chiederti che ambiente hai ritrovato che Brescia li trovi? Adesso sono appena arrivato quindi è presto per fare paragoni, sicuramente la prima cosa che salta all'occhio è la possibilità di allenarsi in un centro così perché magari per chi è qua da un po' di tempo dopo un po' diventerà abitudine però vi assicuro che non lo è perché io ho dieci anni che sto magari in sede B e non ho mai avuto questa opportunità e per uno che interpreta la professione come me cioè totalmente è un privilegio sicuramente quindi quella è la prima cosa che mi è balzata all'occhio che poi come ambiente sono appena arrivato e ci sarà tempo per avere le prime impressioni. Ciao, bentornato. Ben tornando alla trattativa, è stato un po' particolare perché probabilmente è arrivata a mercato chiuso. C'erano stati già dei contatti prima oppure hai già iniziato con la terna che hai iniziato? No, no, io ho giocato anche la prima partita e sapevo che io ero in scadenza di contratto a Terni, avevo un'ultimo anno quindi se ci fosse stata un'opportunità a Terni era finito un ciclo quindi mi sarei potuto muovere diciamo però con il Brescia è nata proprio gli ultimi giorni del mercato diciamo regolare poi si è un po' protratta perché quando ci sono di mezzo comunque più interesse di più persone è normale, sono tutte cose normali e poi si è incastrata alla fine, sono dimagrite un po' sta settimana e basta e allora ho fatto la macchina e adesso è partita. Hai già ricordato tu che eri un bambino, un altro paniera forse quando sei andato via e è all'ipoca ieri sorpresa, il ragazzo che viva fuori dal vivaio, poi andasti via un po' così non andarono benissimo le cose quando andasti via, adesso torni ai 31 anni, dicevamo prima sei il vice vecchio di squadra dopo Biarnason quindi torni anche comunque con altre responsabilità e c'è anche una ripartenza da disegnare dopo una stagione che è stata come ben sai sportivamente tragica. Sì certo cambiano proprio le dinamiche anche personalmente, il mio obiettivo è quello di mettermi a disposizione totalmente in campo e fuori di questi ragazzi e dello staff, ho sempre fatto così, ma non perché sono a Brescia l'ho sempre fatto così nella mia cadera, al di là di quelli che poi sono gli obiettivi personali però ho un'età in cui per me non fanno differenza gli obiettivi personali, la differenza fa che la squadra riesca a centrare una stagione positiva perché ce n'è bisogno e abbiamo sofferto tutti l'anno scorso, io l'ho sempre detto sono stato, sono e rimarrò tifosore Brescia al di là di come andrà la mia esperienza qui e quello è una delle poche cose certe che so e quindi vedo entusiasmo per riuscire a ripartire perché ce n'è bisogno. Ecco, c'è voglia di riscatto per chi era in campo e del processo sul campo, tu ci hanno detto che comunque sugli spalti ti hanno visto Brescia a Cosenza, no no, ti hanno visto che riuscire a fare, quindi tu da tifoso loro in campo, penso i bisoli, penso i cistane, c'è dentro questa voglia di riscatto? Beh, penso che ci debba essere perché di sì, perché comunque quando si viene una stagione negativa i problemi possono essere tanti però se nella vita si ha la fortuna di avere una seconda occasione penso che vada sfruttata ma si deve sfruttare con i fatti, con le chiacchiere, con le parole, bisogna sfruttarla in campo e riuscendo a creare quell'unione che poi penso che in questa categoria faccia la differenza a prescindere dai valori tecnici ci saranno momenti difficili anche quest'anno perché non è che tutti i problemi penso siano risolti però io ho visto la partita magari con Cosenza e quella di quest'anno ho visto una squadra che ha giocato insieme che si è aiutata e penso che quella sia la base per riuscire a fare una stagione in cui si possa soffrire meno Paghera più playmaker, Paghera più mezzala? Ma sinceramente non mi interessa, nel senso ho già parlato con il mister, io mi metto a disposizione Questi anni hai giocato più play e più mezzala? Ma gli ultimi anni ho giocato più mezzala però nasco play quindi per me quello non fa differenza io mi metto a disposizione e poi sarò al mister a scegliere dove posso essere utile Sicuramente una bella concorrenza però, per la parte bello furto, bello intenso Sì, sì, no, vabbè la squadra... Ho il tuo reparto Sì, sì, no, il centrocampo siamo forti ma se si vogliono fare stagioni competitive è normale penso che sia la base del calcio e se non c'è competizione non si può mai alzare l'asticella quindi benvenga e come ho detto io sono a disposizione totalmente dei miei compagni e dell'allenatore poi l'importante è che il Brescia faccia i punti Con il tuo revo peraltro si rafforza la componente Brescia nel gruppo siete imparecchi tra Primavera, Promossi e giocatori che erano già presenti a Roma Ti chiedo se anche questo credi possa essere un elemento decisivo magari nei momenti più difficili della stagione domanda che allego chiaro è che pensare a più in là di questa stagione diventa anche quasi controproducente però nel cassetto dei sogni possiamo mettere anche magari quello di provare a chiudere la carriera per Brescia c'è qualcosa a cui hai pensato quando si è presentata? No, questo non... no, perché il calcio mi ha insegnato a non guardare troppo in là io ho pensato che sabato andiamo a giocare a Lecco e sarà tosta perché comunque è una squadra che ha perso la prima che magari giocherà la prima in casa e non sarà una partita facile per il resto la Brescianità certo potrà essere un qualcosa in più però poi penso che conti il campo perché anche chi non è Bresciano magari ha più attaccamento di altri questa cosa è importante ma è importante se poi si fanno i fatti perché sennò rimangono solo parole volevo tenerti sul numero di Malga abbiamo visto che hai il 4 volevo tenerti sul numero di Malga abbiamo visto che hai il 4 volevo tenerti se l'avevi scelto oppure ti è stato dato anche perché comunque i numeri sono di ogni tipo però ho quasi un numero... i numeri erano pieni e... e poi il numero del pirata allora da ragazzino mi ricordo il pirata ha detto metto 4 perché spero sia di buon uspicio a casa cosa hanno detto? avevi a dire il tuo fratello che ha deciso di smettere proprio con Dottor Unitude a casa sono contenti che almeno possono vedermi di più sono felice dai c'è emozione per noi e anche un po' di elettricità ecco dai aspettavi che tuo fratello smettesse? si si mio fratello adesso anche lui è... i bimbi crescono altre priorità ha fatto tanti sacrifici col lavoro quindi ha smesso sereno però a vederti? eh? però a vederti? speriamo come si tengono a bada però le emozioni e le emotività cioè sicuramente anche questi oltre 10 anni fuori Grescia ti hanno dato qualcosa hanno insegnato l'esperienza e quant'altro però tu sei comunque sempre stato anche un grande tifoso e sei rimasto tale si riesce comunque a gestire questo aspetto o lo scoprirai adesso che sei tornato se un po' sei tra virgolette guarito? non lo so non sarà facile l'esperienza può aiutare poi mi ricordo per di Roby De Zerbi che lui l'ha sempre detto che faceva un po' fatica no? che lui la viveva ancora con più enfasi e come ho detto questa è una sfida che dovevo raccogliere e poi dovrò essere bravo a riuscire a scendere poi il professionista da quello che è il tifoso perché io comunque ho accettato il Brescia non ragionando da tifoso ho accettato il Brescia perché ragionando da professionista era una bella occasione che una società così avesse pensato a me quindi non ho ragionato da tifoso poi mettendoci anche la parte emotiva è sicuramente una cosa ancora più bella però avrei accettato anche se fossi nato a Napoli o a Torino ma anche se fosse proprio come lo so grazie Grazie.